Quello di oggi è stato il giorno della convalida del fermo da parte del GIP e del Tribunale Laziale, in programma anche l'interrogatorio di garanzia del ventenne magrebino accusato di aver tentato di violentare, di aver poi picchiato selvaggiamente, una ragazza aquilana di 30 anni nella notte tra martedì e mercoledì scorso in zona Costa Masciarelli in pieno centro all'Aquila. L'uomo si trova rinchiuso da venerdì giorno del fermo nel carcere laziale perché è stato bloccato proprio a Civitavecchia dagli agenti della Polferra mentre tentava la fuga grazie ad una stretta interlocuzione tra la squadra mobile dell'Aquila che conduce alle indagini e la Digos dell'Aquila che lo ha riconosciuto come spacciatore che frequentava abitualmente la zona dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio. Per gli investigatori preparava la fuga in Tunisia, sua terra d'origine. Le ipotesi di reato contestate all'uomo sono tentata violenza sessuale, rapina, lesioni gravi. L'uomo appena bloccato avrebbe detto agli agenti di non sapere nulla di questa storia ma oltre alle telecamere c'è anche un grande tatuaggio sul collo che lo inchioderebbe. Intanto è cambiato anche il legale dell'uomo perché quello d'ufficio è stato sostituito dal legale di fiducia. Intanto ieri c'è stata in centro una camminata organizzata da fuori genere con molte associazioni per dare solidarietà a questa ragazza colpita dalla violenza. Basta la violenza maschile e un messaggio sorella non sei sola, quello lanciato dalle tantissime donne ma c'erano anche molti uomini per le vie del centro storico dell'Aquila a rilanciare l'attenzione sul tema della violenza.